Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. Iniziano a delinearsi con un po' più di chiarezza le misure che da lunedì prossimo, dal 26 aprile saremo obbligati a seguire con le riaperture annunciate dal Governo che proprio dalle 17 verranno definite nei dettagli all'interno del tavolo del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico e domani il tutto dovrebbe tradursi nel nuovo decreto del Governo. Una delle prime cose di cui si accontezza proprio in questi minuti è quella relativa all'estate. Quest'estate potremo tornare in spiaggia esattamente con le regole adottate nel 2020. Lo ha detto il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio, Assessore Ligure Marco Scaiola, al termine della riunione con le altre Regioni proprio sulle linee guida per l'avvio della stagione balneare 2021. Linee che secondo il Ministro Garavaglia, il Ministro del Turismo, sono quelle da cui ripartire. Lo scorso anno come Regione avevamo lavorato per realizzare dei dettami che il Governo recepì e che non ha mai visto spiagge chiuse per Covid. Noi dunque per l'estate 2021 ripartiremo da lì. Scaiola ha sottolineato l'unione tra le Regioni che al di là del colore politico fanno squadra per affrontare al meglio la situazione che abbiamo di fronte. Del Comitato Tecnico Scientifico dunque parliamo anche in chiave della riunione che si terrà dalle 17 e poi ci sarà un nuovo confronto con le Regioni in serata e domani o al più tardi giovedì il Consiglio dei Ministri metterà nero su bianco il nuovo decreto come leggiamo anche dal sito dell'Ansa che indicherà il calendario e le regole per le riaperture con 11 Regioni e le province di Trento e Bolzano dati alla mano che puntano la zona gialla tra cui anche il Friuli Venezia Giulia. Il Governo conferma la roadmap annunciata da Draghi. stoppando da un lato le pressioni che arrivano dal centro-destra per posticipare il coprifuoco alle 23 e aprire in zona gialla anche i bar e i ristoranti al chiuso. Dall'altro quelle di buona parte delle Regioni che chiedono di rivedere la scelta di riportare tutti gli studenti in classe dal 26 se non si interverrà sui trasporti. Proprio questo è il tema sul quale c'è maggior confronto. favorire la fruizione di spazi all'aperto, anticipare le aperture delle attività anche all'interno è una delle richieste arrivata dalla ConfCommercio attraverso il suo Presidente Sangalli. Oggi sono arrivate anche le linee guida da parte del Commissario per l'Emergenza Figliuolo sul fronte delle vaccinazioni, ovvero dei target specifici per singole Regioni su quanto vaccinare al giorno. Ci racconta tutto Angela Caino. 6.140 vaccinazioni al giorno, 42.981 nell'arco di una settimana. È l'obiettivo che il Commissario per l'Emergenza e il Generale Figliuolo ha assegnato al Friuli Venezia Giulia per raggiungere la fatidica soglia delle 500.000 inoculazioni quotidiane a livello nazionale. Ma se negli ultimi giorni della scorsa settimana la Regione aveva superato il target quotidiano con 6.146 vaccinazioni venerdì e 6.608 sabato, domenica e lunedì. Il dato si è attestato attorno alle 5.410 domenica, 5.079 nella giornata di ieri. Supereremo del 10% il tetto fissato dal Commissario per l'Emergenza. Ha assicurato nei giorni scorsi l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Il problema rimane sempre lo stesso, la disponibilità dei vaccini. Al momento il Friuli Venezia Giulia ha ricevuto 388.545 dosi. Ne sono state somministrate 340.403, l'87,6%. È stato vaccinato il 28,10% della popolazione e l'8,44% ha ricevuto anche la seconda dose. Pfizer, il vaccino più utilizzato, con oltre 270.000 dosi, poi AstraZeneca, 81.500 e infine Moderna, 36.900. E c'è attesa per un eventuale risponso positivo di EMA e AIFA sull'utilizzo del vaccino Johnson & Johnson. La struttura commissariale per l'emergenza è pronta ad assegnare alle varie regioni, già da domani, le 184.000 dosi ferme a pratica di mare. Il Friuli Venezia Giulia dovrebbe averne a disposizione 3.500. Dicevamo che sul tavolo rimane la questione dei trasporti, della riapertura delle scuole. Proprio di questo ha parlato oggi in conferenza stampa Luca Zaia, governatore del Veneto. Bene, c'è molto dibattito, come sapete, in queste ore rispetto alle aperture, perché si va, c'è in corso una stesura definitiva del decreto. Oggi avremo questa riunione dei Presidenti di Regione già verso l'una, l'una e mezza, per fare un punto della situazione, per poi incontrare appunto il Governo alle 17. Avete compreso, dalle mie dichiarazioni ieri, ma anche quelle dei colleghi a livello nazionale, che uno dei punti nevralgici è quello dei trasporti, non direi della scuola, è dei trasporti. Dei trasporti perché? Perché non può passare l'idea, siccome qualcuno la vorrebbe far passare, che non ci siamo organizzati. No, qua non c'è un problema di organizzarsi. È impossibile trovare sul mercato tutti questi mezzi. Ma sia su gomma che su rotaia, vorrei ricordarvi che nonostante il nostro accordo con Trenitalia di oltre un miliardo di euro per la fornitura dei treni. Anche quei treni arrivano, diciamo, in maniera più diluita rispetto alle forniture che avevamo in mente di avere. Questo per dire cosa? Per dire che vi ricordo un dato importante, che noi abbiamo 2.400 mezzi di base, fanno 27.000 corse al giorno. A questi, proprio in virtù dell'apertura della scuola e la riduzione al 50% della capienza, ne abbiamo aggiunti 500 di privati. Se si bus, scusami. Quindi dai 2004 siamo passati ai 2009. E abbiamo anche assunto 130 persone per i famosi stiuti. Queste le parole di Zaia, governatore del Veneto. Torneremo ad affrontare anche la questione dei trasporti nelle prossime edizioni del notiziario. Ora spazio alla cronaca con le novità che arrivano dalla procura di Udine. Perché sul caso, lo ricorderete, delle t-shirt centro stupri, l'episodio, la ragazzata che si era registrata proprio da noi in Friuli nel giugno dello scorso anno, arriva la notizia che la procura di Udine ha chiesto l'archiviazione del caso. Per gli otto giovani friulani che erano appunto indagati per i reati di istigazione a delinquere, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, ora esaminata la documentazione, raccolta e valutata l'assenza di elementi penalmente rilevanti nelle condotte contestate, la procura appunto ha chiesto alla GIP di disporre l'archiviazione del procedimento. A difendere alcuni dei ragazzi coinvolti, l'avvocato Mikulan, che noi abbiamo avvicinato ai nostri microfoni. Si tratta di un provvedimento che per certi aspetti era annunciato sin dall'inizio dell'indagine, perché è chiaro, ed è stato chiaro fin da subito a tutti, che si trattava di una goliardata di pessimo gusto e sotto un certo profilo anche condannabile dal punto di vista etico-morale, ma certamente qualcosa che non aveva, non ha e non ha mai avuto nessun tipo di risvolto di natura penale. Si è fatta un'indagine per verificare se ci fosse una qualche forma di fondamento sulla contestazione iniziale, in particolare l'istigazione allo stupro, cosa che evidentemente non aveva ragione d'essere, perché, come avevo detto fin dall'inizio dell'indagine, stiamo parlando di una vicenda dove a quei festeggiamenti avevano partecipato anche numerose ragazze, amiche dei miei assistiti, con il che evidentemente c'era una piena condivisione del momento ludico, del momento del festeggiamento, salvo l'arrivare al paradosso di dire che anche quelle ragazze, siccome coinvolte in quella festa, con quel famoso cartellino centro stupri, in qualche modo intendevano istigare lo stupro, cosa che evidentemente è un fuor d'opera. C'è poi la questione del risarcimento invece, che rimane pendente al risarcimento chiesto dai gestori della discoteca lignanese. Esattamente, c'è una richiesta che è stata indirizzata a tutti i ragazzi, io per quanto riguarda le cinque persone che assisto, l'ho rispedito al mittente per un motivo molto semplice. Si tratta di una prenotazione, quella fatta quella sera in quella discoteca, con la piena approvazione da parte dei gestori, che non soltanto hanno dato l'assenso a poter utilizzare quel centro stupri nella dicitura del cartellino da posto sul tavolo, lo hanno registrato come tale nel registro delle presenze quella sera e hanno continuato a servire alle consumazioni per l'arco di tutta la serata, con l'evidente conseguenza che laddove astratamente dov'essereci un danno di immagine, è chiaro che quel danno non potrà mai essere richiesto a chi ha chiesto l'autorizzazione ed è stato autorizzato a utilizzare quel tipo di dicitura. Nel frattempo sono arrivate le prime reazioni anche da parte dell'ordine degli psicologi che leggono in questa decisione della procura una mancata lezione tra virgolette agli stessi ragazzi. la procura come l'avvocato non deve dare lezioni a nessuno deve verificare se in presenza di una notizia crimine se esistono meno i presupposti di un reato nel caso di specie i reati non ci sono diverso evidentemente il giudizio come dicevo prima di natura etico-morale con riferimento al quale ognuno di noi è libero di esprimere una propria valutazione io posso dire che in concreto i ragazzi che evidentemente hanno ben compreso il disvalore sociale di quella ragazzata di quel festeggiamento hanno iniziato spontaneamente un percorso nell'immediatezza dei fatti di reinserimento sociale con attività di concreto volontariato proprio a favore di associazioni che si occupano di vittime di stupri e di violenze sessuali quindi un percorso che si è ultimato nel migliore dei modi e che ci fa ritenere come effettivamente questa vicenda sia stata in qualche modo superata con gesti concreti non urlati non discursi e non parlati ancora cronaca un operaio che stava potando alcune piante su fondo privato a San Giorgio di Nogaro è rimasto ferito alla schiena colpito da un verricello un cavo d'acciaio che si è spezzato l'uomo che non è in pericolo di vita ed è rimasto cosciente è stato soccorso dall'equipe medica dell'ambulanza e trasportato con l'elisoccorso al Santa Maria della Misericordia di Udine l'infortunio è accaduto stamattina alle 9.30 nella zona di Porto Nogaro a Udine invece verso lunedì domenica notte gli agenti delle volanti della questura frulana sono intervenuti in un condominio nella zona nord-est della città dopo la segnalazione di un residente per musica ad alto volume appena giunti sul posto i poliziotti hanno chiaramente sentito la musica che proveniva da un appartamento al quarto piano quindi hanno suonato e bussato più volte la musica è stata abbassata ma nessuno nonostante si udissero persone all'interno apriva la porta solo dieci minuti più tardi tre residenti si sono decisi ad aprire la madre di 45 anni e il figlio di 23 mentre il compagno della donna cercava di calmarli hanno iniziato ad inveire contro gli agenti urlando improperi offese minacce ai poliziotti la donna poi ha cercato di colpirli con una bottiglia di vetro da lì ne è nata una collutazione a seguito della quale madre e figlio sono rimasti sono stati ammanettati e condotti in questura arrestati per le visioni aggravate a danno di un agente che fortunatamente ha rimediato solo escoriazioni guaribili in 5 giorni un totale invece di 22 giorni di ricovero ospedaliero tra la Tisana e Palmanova con l'amara sorpresa della scomparsa di un ricordo molto caro è la storia che arriva dalla 76enne Anna Maria originaria di Gonarse residente a Muzzana che ha visto scomparire la collana del marito deceduto oltre a 40 euro in contanti mentre appunto si trovava nel nosocomio indossava da molto tempo come ricordo e portafortuna l'oggetto lo teneva sul comodino accanto al letto il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Palazzolo dell'Ostella e la signora ha lanciato un allarme a chiunque avesse notizia affinché appunto riescano a recuperare l'oggetto caro andiamo a Pordenone invece dove la Guardia di Finanza ha scoperto alcune persone che giocavano con regolarità online ottenendo vincite consistenti eppure percepivano il reddito di cittadinanza percepivano il reddito di cittadinanza pur essendo in possesso di redditi derivanti dal gioco d'azzardo quattro persone residenti in provincia di Pordenone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza per aver ottenuto indebitamente 160.000 euro simulando uno stato di indigenza economica delle autodichiarazioni necessarie a richiedere il beneficio patrimoniale all'Inps avevano omesso di indicare incrementi patrimoniali derivanti da attività di gioco di varia natura gli accertamenti delle fiamme gialle hanno permesso di verificare come gli indebiti percettori del reddito di cittadinanza fossero tutti giocatori abituali su varie piattaforme di gioco online tanto da spendere diverse centinaia di migliaia di euro e conseguire quindi nel complesso svariate vincite uno dei quattro soggetti si è giudicato nell'arco del solo 2017 oltre 170.000 euro eppure uno dei requisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza e di non possedere liquidità o entrate reddituali superiori a soglie prestabilite sommando tutte le possibili fonti di reddito comprese le vincite al gioco oltre che alla procura le posizioni illecite sono state segnalate all'Inps che ha già disposto la revoca del beneficio economico e il recupero di quanto illecitamente percepito pari a 41.000 euro ci trasferiamo a Trieste ora in circa un'ora accompagnato con la sua auto prima tre poi altri due migranti dalla Slovenia all'Italia ottenendo in cambio una somma complessiva di 1.500 euro per questo una donna di 63 anni cittadina slovena è stata arrestata ieri dalla polizia di frontiera a Trieste dovrà rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione illegale i migranti di nazionalità bengalese tutti uomini tra i 16 e i 37 anni sono stati trasferiti in una struttura idonea per la sorveglianza sanitaria chiudiamo con le novità che arrivano invece oggi dalla giunta comunale di Udine che ha approvato il progetto definitivo della rotatoria tra le vie Fusine e Molinuovo per rendere più sicuro uno degli incroci più pericolosi della città una delibera in giunta sulla rotonda di via Fusine un luogo in cui si sono svolti spesso incidenti sì era nel programma dell'amministrazione comunale quello l'incrocio più pericoloso della città ci sono sono stati in passato parecchi morti e tantissimi incidenti un importo di 600 mila euro destinati alla sicurezza dei cittadini adesso abbiamo approvato il progetto definitivo a breve quello esecutivo e poi il via ai lavori quella rotonda lì via Fusine incrocio via Molinuovo avrà non solo la rotatoria ma avrà anche marciapiedi in due tratti gli attraversamenti pedonali tattico-plantari tutti gli accorgimenti sia idrici di scoramento delle acque sia luminosi entro quando quindi sarà realizzata? ma adesso dobbiamo completare la fase esecutiva la conferenza dei servizi è stata fatta poi fra due mesi inizierà la gara da palto che per la cifra penso andranno via in due mesi vediamo come procedono gli affidamenti le gare eccetera se i controlli sono poi a posto penso che entro la fine dell'anno diciamo iniziamo i lavori ci fermiamo qui l'informazione torna alle ore 19 a più tardi diciamo Grazie a tutti.